Grazie a tutti. Alla mia sinistra, ormai il nostro abitue, il collega Benetto Marinaggi. Buonasera Carlo, buonasera a tutti gli spettatori. Il direttore sportivo Sebastiano Vecchiola, direttore buonasera. Salve Carlo, buonasera. Il direttore della Samb, uno dei due centravanti, però è quello che ha segnalato di più. E abbiamo l'amico abruzzese, allenatore, opinionista, Domenico Izzotti, che è tornato da noi dopo tanto tempo. Buonasera e grazie per l'invito Carlo. Allora, io partirei prima di partire con Fall, con Benedetto, che giustamente in questo momento particolare, ieri abbiamo pareggiato, a mio avviso anche meritatamente, non abbiamo rischiato tanto, ma non è che dobbiamo fare tanto. L'importante era non perdere a Tolentino per rimanere su questa fascia di punti, per giocarci alla fine alla fine, però penso che sia importante quello che abbiamo fatto. Sì, un buon punto contro un ottimo Tolentino, una squadra che l'ha buttato sull'agonismo, molto pericoloso sulle palline attive. Una squadra che ha il DNA del suo allenatore Andrea Mosconi, una Samba che purtroppo è molto sfortunata per gli infortuni capitati ad Alboni e Lulli, che ha perso due elementi importanti. La spinta di Alboni sull'out di destra è fondamentale nello schema tattico di Visi ed Alfonsi, così come gli insedimenti di Lulli tra le linee. Però resta il fatto che a questo punto la San Benedettese ha agganciato Pineto e Vastese al quinto posto, è a una lunghezza dal Tivoli e domenica prossima c'è la grande occasione dell'ospitale delle Palme, l'Arror Alto Casertano, sette punti in classifica, una vittoria e quattro pareggi sul bilancio in due partite. La dice lunga sul valore di questa squadra e di sfruttare anche dei turni di calendario molto interessanti, perché la Vastese riceverà il Porto d'Ascoli, che a quota 48 può sempre rientrare tra le prime cinque. Il Tolentino giocherà in casa contro il Pineto, mentre l'altra squadra in lotta, cioè la Vastese, il Porto d'Ascoli e la Samb, l'Alor Alto Casertano. Quindi l'occasione è anche per accorciare ulteriormente e soprattutto anche sopravvanzare il Fiuggi, che giocherà in trasferta. Grazie Benedetto. Allora passiamo al bomber Amet Falle, che dopo aver fatto diversi con la Fiuggi, è tornato a San Benedetto, ormai è diventato beniamino, perché io quando parlo con qualche amico di Amet Falle, ormai è un amico di questa città, si è trovato molto bene e penso che il suo dovere lo faccia ogni domenica. Ma sì, sì, io cerco sempre di, come ho sempre detto, di impegnarmi al massimo. Sicuramente qua, in questa città, ho trovato, come hai detto tu, un ambiente familiare, ma dappertutto, da tutti gli ambienti in cui frequento, dalla palestra, dai bar in cui vado, dai ristoranti. Ho trovato subito un ambiente che mi ha accolto come proprio un figlio di tutti. E questa cosa qui mi fa onore, sono molto felice di questa cosa qui. Ciò comunque cerco di portarlo sul campo. Quando sono sul campo cerco di dare il massimo anche per questa gente qui, che veramente aspettano molto da me. Ed è sempre difficile per me, è bello da una parte, ma dall'altra parte è sempre difficile, perché sai che hai delle grandi responsabilità quando sei sul campo. Ecco, ti chiedo, puoi fare un distinguo tra la piazza di Fiugi e quella di San Benedetto? Vabbè, stai ridendo dicendolo, quindi già quello dice tutto. Però io ho massimo rispetto per il Fiugi, perché comunque bisogna mai dimenticare da dove hai mangiato. A Fiugi avevamo un grande gruppo, un grande allenatore, Romandini. Di qui sul campo avevamo concetti ben chiari, facevamo un calcio comunque con dei concetti. Lui ci insegnava molto, molto a livello di campo. Però la differenza è tanta, la differenza è tantissima. Qui giochi durante la settimana, giochi tutti i giorni addirittura, perché qui non puoi rilassarti. Un pareggio è visto come una sconfitta. È una piazza talmente importante che, veramente lo dico anche ai ragazzi che giocano con noi, non possiamo rilassarci. Sappiamo che da una parte è bello, è bello avere questa sfida ogni giorno, dall'altra parte devi darti da fare. Direttore, prima di passare all'Abruzzo, vorrei, anche perché la Samba la sta eseguendo sempre dall'esterno e non solo, questo rascio finale dopo la disamina che ha fatto Benedetto, penso che non ha sbagliato nulla, anche perché domenica prossima, forse, ma non è perché è un incontro facile, l'altro casetano è retrocesso, però anche domenica ha perso in casa 1-2 col club Ammattese, ma non regalando nulla. Effettivamente la disamina che ha fatto Betto Marinangeli è giustissima. E' chiaro che la Samba e Tesa aveva queste quattro partite, tra le quali Montegiorgio e Tolentino, nelle quali ha realizzato quattro punti, penso che sia anche giusto. Ora, come dicevi te Carlo, domenica con l'Aurora Alto Casertano, sulla carta potrebbe essere facile, ma come sappiamo nel calcio le partite vanno giocate, quindi non dobbiamo assolutamente abbassare i toni, tenere i toni sempre alti e cercare di ricavare il massimo profitto su ogni partita. Io credo che la Samba e Tesa potrebbe, tra virgolette, giocarsi un posto importante nei play-off con l'ultima partita di campionato con il Pineto e bisogna vedere anche come arriviamo. Siamo consapevoli comunque che Alboni, non so adesso quale sarà l'entità dell'infortunio, ma non credo che sia una cosa risolvibile a breve. Adesso io non voglio fare... Per questo sono molto contento perché è un giocatore che a me piace molto, ha dato molto quest'anno in campo, è un giocatore propositivo e adesso come ragazzo io non lo conosco, però penso che sia una persona posata. È un bravo ragazzo, ma si vede, si vede dal campo perché dà il massimo ed è un ragazzo sempre corretto, quindi tanto di cappello a questo ragazzo. Grazie direttore. Allora, Domenico Ezzotti, le abruzzesi del CND Gironef quest'anno hanno un po' sofferto. Qualcuna sta lottando, come dicevano i precedenti, per i play-off, qualche altra impegnata sotto, però insomma, tutto sommato non c'è quella, come qualche anno fa, l'ammazza campionato, che è successo col Campobasso. Non mi aspettavo il campionato del Castelnuovo così, lo stesso Notaresco, però il campionato del Colerone non è finito. Sì, hai parlato di Castelnuovo e Notaresco, in realtà li conosco molto bene. Diciamo che il Castelnuovo ha avuto una vicenda iniziale molto particolare, perché c'è stato un rimpasto societario, sono entrate le persone che poi sono andate via e andando via hanno portato via anche dei ragazzi importanti per questa squadra e quindi Di Fabio si è trovato alla fine a gestire questa situazione con un gruppo di giovani, anche se faceva parte del vecchio gruppo del Castelnuovo Calcio e diciamo che adesso gli stanno anche grandi soddisfazioni. Quindi mi ha dato atto a Di Fabio che sta facendo un buon lavoro perché non era facile, soprattutto in virtù di questo scombussolamento societario. Perciò quello di Notaresco è una grande sorpresa in negativo, anzi io a questo punto la considererei come una papabile, eventualmente a un retrocesso o quantomeno a una zona play-out, perché è una squadra che ha investito molto, ha grandi giocatori, dimentichiamo Esposito che è un giocatore molto importante, tanto pagato e quando ti trovi là sotto non è facile poi ritornare su. Il Pineto sono anni che investe e non riesce mai a raggiungere quell'obiettivo che il presidente Brocco vorrebbe. È vero, condivido quello che hai detto tu, le nostre abruzzesi non è che abbiano fatto bene, anche perché, ripeto, qualcuna di queste secondo me potrebbe anche ritrovarsi in eccellenza purtroppo. Grazie, passiamo da Benedetto. Allora, hai già detto tutto in apertura, però a questo punto è anche tempo di bilanci, mancano due domeniche a fine campionato, però penso che la Samb, dopo il giro di Boa, sia stata un'altra Samb. La squadra c'è, tutti quelli che sono arrivati, giustamente rimane il rammarico per questo inizio fatto un po' così all'ultimo momento, però purtroppo nel calcio ci sta, non ti regala niente nessuno e come spesso ne parliamo anche con il direttore Bianchini, con altri amici, colleghi, che chi gioca contro la Samba ci mette sempre il doppio della forza per poterci battere. Ma se non vado errato, la Samba ha fatto più punti della Recanatese nel giro di ritorno, o uno o due punti in più rispetto alla Recanatese. Questo ti lascia la mare in bocca, soprattutto per come si è sviluppata quest'annata, a partire da aprile, da un anno a questa parte, fino ad arrivare all'oggi. Se avesse avuto tempo, come l'ha avuto il Novara, che ha vinto il campionato, il proprio girone, come l'ha avuto altre formazioni per allestire una squadra, diciamo con elementi di categoria, perché sono stati presi tutti all'inizio tutti i calciatori provenienti dalla Serie C, ma con evidenti problemi sotto il profilo fisico, senza una preparazione adeguata. Se cercassi e dato la panchina a Massimo Donati, che secondo me è rimasto, diciamo è stato sballottato come una vela al vento. Alla prima esperienza d'allenatore, in Serie D, con l'obbligo degli under, buttato in una piazza che, vedoci da una situazione drammatica, secondo me con Massimo Donati in Serie C, la Sambra sarebbe sicuramente divertita. Poi è arrivato il cambio tecnico con Mauro Antonioli, che doveva dare quella svolta, ma la squadra era quella, e poi la vittoria di Tolentino in casa, l'arrivo di Stefano Visi e Sant'Alfonsi, il mercato di gennaio, e la ricostruzione totale di una Sambra, che se fosse stata questa la squadra ad agosto, il campionato sarebbe chiuso non adesso a maggio, ma a metà marzo in Sidi Aprile. Sicuramente la Regalatese avrebbe avuto una squadra sulla quale... Sì, ma la Regalatese ce l'aveva, ce l'avevano tutte le squadre, perché il Trastevere il suo campionato l'ha fatto, con molto alti e bassi, molto ondivaco, con vittorie incredibili, e sconfitte, serie di sconfitte, ma anche la Regalatese non è che abbia avuto questo cammino così eccellente, ha perso le partite in casa, ha perso contro la Sambra in casa, è andata a perdere anche in trasferta, quindi era un campionato molto, molto livellato, a livello tecnico-tattico. Il Trastevere ha avuto l'occasione anche del primo posto, di agganciare anche il primo posto, non ci è riuscito, anche perché loro hanno questo problema dello stadio, che non può essere omologato per la Serie C, quindi sarebbero costretti a giocare all'Olimpico con un esborso di spese molto, molto elevato. Anche perché il Flaminio è dato a rugby? No, il Flaminio, c'è l'erba alta, un metro e mezzo, è proprio in fase di decadimento. Il Flaminio poteva essere anche utilizzato dalla Serie A da una Lazio, per esempio, con ristrutturazione, un impianto del genere al centro cittadino, e poi il Flaminio, lo ricordo bene, un Samba Ternana, perdiamo 1-0 in Serie C, è un grande stadio. E poi c'è la delusione, c'è giustamente Domenico Ezzotti, il Pineto, che ogni anno costruisce la squadra per vincere il campionato, spende una barca di soldi, e poi dopo a gennaio inizia a dar via i pezzi più importanti, come sembra Cardella, è venuto a gennaio, dicembre, a dicembre Cardella è venuto a San Benedetto, Minnoz è andato a Reganati e ha perso un po' le distanze. Fiuggi all'addio dei fratelli Ciaccia, si è stato con il passaggio al Teramo, la società che bene o male ha resistito, dice giustamente, fallo, un buon allenatore Romondini, che mette bene la sua squadra in mezzo al campo, insomma, tutti con un comportamento molto ondivago, alti e bassi, altri più bassi che alti, e la Reganati è stata brava a sfruttare il momento negativo delle altre formazioni, per quando era anche lei in fase un po' calante. Però, c'è il grande rammarico, ripeto, questa Samb, che se fosse stata questa, la squadra, odierne, ripeto, il campionato sarebbe finito i primi di aprile, fine marzo, prima di aprile, è già finito. torniamo con Mette Falla, chiedergli questo, dopo tanti allenatori, adesso ho due ragazzi, ragazzi che sono giovanissimi, a questa esperienza, che io ricordo quando giocavano il grande portiere Stefano Visi e Sante Alfonsi, ecco, questa differenza, due ragazzi che cerco di mettere il loro, ma più che altro quello che vi hanno chiesto già all'inizio, se vi ricordo, l'attaccamento alla maglia, a questa piazza, alla quale loro tengono molto. Ma la gestione Alfonsi in Visi è stata, diciamo, da una parte molto semplice, dall'altra parte, per loro che comunque sono della piazza, è un lavoro veramente duro, mentale per loro. Per quello che riguarda noi, la gestione è stata semplice, loro ci sono affidati a noi e noi le abbiamo dato anche, le abbiamo dato disponibilità su tutto, esatto, quindi c'è molto feeling tra i giocatori e soprattutto con, con Santi, io ho un rapporto, diciamo, un buon rapporto, perché è una persona per bene, credo, l'ho conosciuto in pochi mesi, però è una persona veramente di cuore, ecco, quello che mi sento di dire. Per quello che riguarda il resto, loro ci tengono molto, ci tengono molto, ogni domenica soffrono tantissimo e sicuramente in queste due partite anche dovremo fare, doverò cercare di fare il risultato anche per loro, che comunque saranno qui tutto l'anno e per il proseguo della loro vita, almeno togliere questa soddisfazione per loro. Sì, belle parole, complimenti. Sebastiano, stiamo a rush finale, il bilancio che ha fatto Betto penso che non sia da aggiungere alto, però, diciamo, adesso dobbiamo giocarci, sarebbe veramente tremendo se non riuscissimo a entrare, perché, come hai detto tu, la mattina di domenica diciamo è quasi scontata, anche se dobbiamo giocarcela, però, sia Pisi che Alfonso, si metteranno una squadra in condizioni, perché l'altro canzettano non verrà Samet a regalare nulla, però dopo sarà questa sfida a Pineto dove penso che si deciderà il campionato. Beh, sì, come si diceva prima, ovviamente se la Sametese fosse stata questa di oggi, sin dall'inizio del campionato, sarebbe stato tutto un altro campionato. Sarebbe stata poi l'antagonista principale della Recanatese. Ricordiamo che comunque la Recanatese, tra alti e bassi, è stata sempre ai vertici della classifica, comunque, perché ha un organico molto competitivo. Se vogliamo mettere anche che ci hanno un certo Alessandro Sbaffo che ha trovato il capo cannoniere attuale, che se poi non ci fosse stato lui, che è uno che mi avviso è fuori categoria, perché ha giocato anche in B, insomma, è giocatore di un'altra categoria, la classifica cannonieri se l'avrebbe potuta giocare sia a Falle che attualmente con Guida, perché ricordiamo che Falle ha fatto 6 gol al Fiuggi e 8-9 qui, quindi sono 15 gol. Quindi Cardella ne ha fatti 10, mi sembra. Quindi voglio dire, questo a partire 12-11. mi manca un gol a te e un gol a lui. Vabbè, dai. Mi tengo basso per stimolarli le domeniche prossime. Dicevo che comunque abbiamo due attaccanti di tutto rispetto, voglio dire. Metto un pallino lì. Non so se sono compatibili entrambi, perché anche con caratteristiche diverse sono simili. Ecco, mettiamola così. Però, fatto sta che comunque... Quando giochi con due attaccanti di difeso la difesa avversaria ha sempre problemi, perché si marchi l'altro uno dei due deve lasciare lì. Trova spazio. Quindi dipende poi dal motivo... difatti, avete due caratteristiche diverse, perché Cardella a mio avviso è molto più bravo tecnicamente palla al piede e te magari sei molto più bravo all'inserimento e sulle palle aeree. Questo è il mio pensiero generale. Però... Non posso... Sui pensieri non posso intervenire, purtroppo. È un pensiero incondizionato, nel senso, non è che dico... Però, da quello che vedo, voglio dire, qualche volta ho giocato anch'io a calcio, qualche campo l'ho calcato, voglio dire. È un'opinione che lascia il tempo che trova. C'era qualche capello in più, senza aggiungere altro. Allora, andiamo con Izzotti, al quale adesso chiedo dell'eccellenza, perché l'Avenzano vede il campionato davanti a Giulianova e io saluto un amico carissimo e l'avevo promesso, Alessandro Pendenza, che ho avuto di conoscere a Porto d'Ascoli e che ha fatto un grande campionato all'Avenzano. Diciamo, tutto scontato a tuo avviso, Domenico, oppure qualche... L'Avenzano è stata un po' una sorpresa? No, diciamo che l'Avenzano e l'Aquila nelle squadre che erano partite per vincere il campionato. L'Avenzano ha saputo, secondo me, prendere giocatori di categoria e da subito si è adattata a questo campionato e una volta presa la leadership non l'ha più mollata. L'Aquila è una squadra che ha speso molto, però devo anche dire, come prima si parlava giustamente del girone di ritorno da San Mettese che in una classifica speciale mi pare ha fatto più punti dalle canatese, così è stato detto e così stesso voglio dire anche dell'Aquila, non perché il direttore Claudio Cicchi è un mio amico, però da quando è arrivato lui l'altro giorno ne stavo parlando con un altro mio amico e dicevamo che appunto l'Aquila in questa speciale classifica avrebbe addirittura quattro punti in più dell'Avezzana quando è entrato Claudio Cicchi. Oggi è una squadra molto forte, anche se in questo momento poi andrà a fare i play-off, Domenica affronterà la Torrese che è una piccola realtà ma da anni si proietta sempre le zone alte di questo campionato e poi l'eventuale vittoriosa mi auguro l'Aquila per amicizia con Claudio andrà a giocare a Rubens Fadini e quindi capisci bene che andando a giocare a Fadini Giulianova l'Aquila immagino che sarà sicuramente non dico pieno ma lì vicino però l'Avezzano sicuramente non è una sorpresa. Grazie Domenico e Sauriente come sempre infatti ci stai a parlare d'Abruzzo non mi sono apprezzato io a documentarvi chi è meglio di Domenica e Sotti allora possiamo salutare perché ho detto tutto quasi tutto perché dopo questo lo vedremo la domenica prossima sul campo quindi ringraziamo il collega dello sport Mettro Marinangeli grazie buonasera il nostro direttore amico che insieme all'altro amico spesso è con noi Sebastiano Vecchiolo buonasera direttore grazie Carlo buonasera a tutti perché io non ho avuto ancora modo di poterli intervistare la domenica San Matteo Bianchino devo sempre correre per cercare di mettere l'intervista in tempo però prima e poi ti intervisterò e grazie comunque sei venuto grazie mille a voi alla prossima domenico grazie come sempre per me è un piacere speriamo di riaverti in altre puntate piacere mio e sicuramente se mi inviti vengerò come sempre certamente ringraziamo i nostri operatori Paola e Alessandro ringraziamo la proprietà di questo caffè sotto sopra di Eva Gola e l'appuntamento come sempre al prossimo mese ringraziamo per l'ascolto e sperando che la Samba ci dia questa gioia finale per chiudere questa annata un po' non diciamo travagliata ma insomma adesso stiamo un po' bene però diciamo qualche mese fa no a risentirci